Oh, che cosa sta succedendo? Sì, è una sorta di teletrasporto iperspaziale che sta puntando quattro obiettivi. Dove siamo finiti? Penso di parlare anche a nome vostro se dico per tutte le pizze! Sì, marce! Siamo probabilmente in una qualche dimensione alternativa. Quelli siamo... noi? Non ci credo! Ha una pistola laser! Prendiamoli! Che dici? Questa non è una... All'attacco! Vogliamo combattervi! Non dovevi puntarci contro una pistola laser! Parla! Chi vi ha mandato? Levati di dosso, impostore col guscio crepato! Sei esattamente uguale a me! Kawashanga! Quello che cercavo di dirvi è che questa non è una pistola laser, ma è un proiettore di portali. Come faccio a sapere che non sei un Krang? Proprio per questo vi abbiamo portati qui. C'è un Krang che sta procurando problemi alla nostra dimensione e anche alla vostra. E lui è riuscita a trovarci! Allora, vi siete alleati con la vostra controparte dimensionale. I miei complimenti! Questa, per fortuna, sarà l'ultima volta che dovrò vedere voi ripugnanti tartaruche. Non te ne andrai così in fretta! Una coscia! Il mio dimensionatore spazzera via tutto quello che c'è nel vostro mondo! Evviva! Ora siamo bloccati in questa dimensione Probabilmente per sempre Ho ancora il raggio Crea Portali Siete arrivati qui con questo Devo soltanto settarlo sulle coordinate dimensionali dei Krang Sì! Andiamo ragazzi! Sì! Che bello! Siamo di nuovo a New York! Siamo tornati nel passato! Ragazzi! Guardate! Siamo più solidi, più spessi! Dobbiamo trovare quel Krang prima che distrugga il pianeta Finché ha corso quel dispositivo Riesco a seguirne le tracce come Michelangelo riesce a fiutare la pizza! Credo di averlo trovato! Deve essere laggiù! Lo vedo! Sembra che stia piazzando una specie di bomba! Allora ragazzi, questo è il piano I Donatello disinnescheranno quell'arma Mentre tutti gli altri sconfiggeranno quel pazzo furioso Potere alle tartarughe! Stare lontani da quel dimensionatore, mostrisattoli! E tutte le pizze farcite! Bene! Ora dobbiamo vedercela con un pagliaccio più grande! Prendilo e scappa! Raffaello, prendilo! Ridatemi subito al mio dimensionatore! Puta un missile sulla testa, Vicky! Grazie mille, Michelangelo! Oh! Resistete tutti e due! Forza, buttiamo giù questo gigantesco Frank! Basta, aspettetelo! Potete fare quello che volete Ma non lo disinnescherete mai in tempo! Non lo ci pensano! Beh, almeno abbiamo il suo dimensionatore Questa roba esplode Può spazzare via in un lampo la nostra intera dimensione Devo disinnescarla subito nel mio laboratorio Wow! Già di ritorno? Stanchi di pattugliare la città? Sì, sì! Ragazzi, va tutto bene, vero? È una cosa straordinaria rivederti Cavolicchio, questo rifugio spacca sul serio! Guardate, c'è anche il flipper! Mundo Pizzo è troppo bello! Non vi avevo detto di aspettare fuori! Che cosa sta succedendo? Qualcuno me lo spieghi, subito! Kawabonga! Puglia Tessà! Io mi prenoto per il flipper! Che succede, Donny? Abbiamo analizzato quell'arma! Pessime notizie, davvero pessime! In pratica è collegata ad altre due bombe identiche! Pensiamo che almeno una si trovi nella vostra dimensione! Il nostro mondo verrà raso al suolo, amici! E io non me ne faccio una ragione! Non permetteremo che succeda! Voi ci avete aiutati e noi aiuteremo voi! Andate! Fate quello che è necessario! Addio, Sensei! Ho manomesso il vostro stupido crea portali e vi ho fatto arrivare fin qui! Perché? Perché sono intelligentissimo! Il Krang vice-supremo? No, sono Megan Fox! Oh, dimenticavo! Tu sei il tonto del gruppo! Ehi! Siamo! Siete nel mio territorio, poveri piccoli Mutana! Aspetta di vedere come si sviluppa la parte restante del mio piano! Abbiamo già disattivato uno dei tuoi dimensionatori, Krang! E ora faremo la stessa cosa anche con gli altri due! Recuperiamo il crea portale! Ma lasciate fare al vero Raffaello! Dove cavolo hai trovato una pizza? Dovresti metterti a dietro, brutto Krang! L'ho preso! È tutto tuo! Torniamo nella nostra dimensione! Finalmente siamo di nuovo nel mondo reale! È inutile che scappiate! Noi vi seguiremo comunque! Ce l'abbiamo fatta! Due dimensionatori disinnescati! Non importa! Ce n'è ancora uno e si trova nella realtà primaria delle tartarughe! Se quei mutanti vengono distrutti, capiterà la stessa cosa anche a tutti voi! Doratelli! Andate nella terza realtà! D'accordo! E questa che razza di dimensione sarà effetto? Allora andiamo! Sono le prime tartarughe! Ciao ragazzi, piacere! Siamo le tartarughe! Non c'è tempo per le spiegazioni, andiamo! Ci siamo! Ci vediamo in un'altra dimensione! Adesso possiamo andarcene! Sì, leviamo le tende! Non riuscirete a fuggire così facilmente! Oh no, siamo di nuovo qui! Non potete andare da nessuna parte finché ho questo giocato! Posso sabotarvi i portali per tutto il tempo che voglio! Ah, accidentaccio! Forza, eliminiamo quella faccia di gomma! Con molto piacere! E poi, amico! Ottima mossa, Raffaello! Quel buffone ne ha stancato! Potere alle tartarughe! Che cosa pensi di fare? Dai, divertiamoci! Poggiiamo un po' con questo crancho, Michelangelo! Basta! Mettetemi giù! Nell'incontri! Puglia! Caccia! No! Io detesto il bianco e nero! Beh, non è stato neanche un lavoraccio, vero?